Alleluia! Quindi benvenuti alla celebrazione della Pentecoste. Dillo alla persona accanto a te benvenuto o benvenuta alla celebrazione di Pentecoste e quindi vogliamo fare in modo che stasera possiamo, quando celebriamo Pentecoste, celebriamo lo Spirito Santo, celebriamo quello che si è manifestato nel primo giorno quando Lui è sceso, il fuoco è la potenza di Dio. Amen! Quindi dillo alla persona accanto a te stasera, alza le tue aspettative. Dio vuole fare cose meravigliose dentro di te e abbiamo bisogno di alzare le nostre aspettative. Pentecoste è una delle tre feste principali che l'Eterno ha dato al suo popolo. Amen! Quindi una delle tre dicevo perché c'è Pasqua, c'è Pentecoste e c'è la festa dei tabernacoli. Periodo di Pasqua che si festeggia, periodo di solito aprile-marzo, periodo di Pentecoste più o meno dove si celebra, è il mese di maggio-giugno e invece per quanto riguarda tabernacoli settembre-ottobre. Quindi questo è qualcosa che la Bibbia ci insegna che deve essere osservata, deve essere celebrata e deve essere osservata in perpetuo. Amen! Quindi voglio prima di passare al centro del messaggio, darvi alcune indicazioni per quanto riguarda la festa della Pentecoste o la celebrazione della festa della Pentecoste. Quindi qualcuno che viene avanti, prende due pani e li può alzare al cielo. Perché nel giorno di Pentecoste, questo è quello che faceva il sommo sacerdote, ma non solo, lo faceva ogni persona che era sacerdote della sua casa. Infatti è scritto nel libro del Levitico, nel capitolo 23, il verso 17, alza i due pani, tutti e due a destra e a sinistra, ok? Porterete dalla vostra abitazione due pani per un'offerta agitata. Quindi agita i pani, questa era l'offerta agitata, e quindi naturalmente la festa di Pentecoste ha a che fare con la raccolta, perché nella primavera l'ultima pioggia per poi susseguirsi la raccolta dell'anno che è passato. Ok? Quindi offerta agitata. Quando la Bibbia parla di questo, a questo si riferisce. Ora ci sono due aspetti molto importanti che riguardano la celebrazione della Pentecoste. Intanto, la prima volta che l'ha celebrato Israele è quando è uscito dalla schiavitù dall'Egitto, prima ha celebrato la Pasqua e dopo 50 giorni ha celebrato Pentecoste. Dillo Pentecoste. Quando si è trovato sotto al monte Sinai e Dio ha dato la Torah al suo popolo. Quindi erano passati 50 giorni e stavano celebrando quella festa, quando Dio diede queste tavole. E queste rappresentano qualcosa, questi due pani rappresentano qualcosa molto importante. Intanto rappresentano ringraziamento e gratitudine. Per come Dio fino a questo momento, e la Bibbia ci dice, per come il Signore ci ha soccorso. Per come abbiamo visto Dio nella nostra vita prendersi cura di noi, proteggerci e guidarci. Quindi la prima cosa riguarda appunto la gratitudine e il ringraziamento, e l'altro significato è che dei due popoli Dio ne ha fatto uno solo. Amen. I pani vengono congiunti, vengono uniti, il popolo giudeo e il popolo gentile diventa un solo popolo, davanti alla presenza e agli occhi di Dio. Infatti il proposito della Pentecoste è unire i due popoli. E in Efesi nel capitolo 2, il verso 14, è scritto quello che iscrisse l'Apostolo Pavolo, egli infatti è la nostra pace, dillo, tu sei la mia shalom. Colui che ha fatto dei due popoli uno. Amen. E ha demolito il muro di separazione. In Cristo non ci sono più due popoli, gentili e giudei, ma c'è un solo popolo che celebra la meravigliosa realtà, presenza del nostro grande Iddio. Amen. Quindi Israele è cosa di chi è testimone, perché il numero 2 rappresenta anche la testimonianza, dillo testimonianza. E Israele è testimonia di Dio Padre. Mentre noi che siamo la Chiesa di Gesù, noi siamo testimoni di Cristo. Noi siamo testimoni della sua potenza e della sua gloria nella nostra vita. Amen. Quindi nel giorno di Pentecoste il popolo che viene insieme e di solito è riunito nelle case e ci si viene poi insieme. Ma nelle case, come successe nel giorno di Pentecoste, che abbiamo letto in Atti nel capitolo 2, dal verso 1, loro erano riuniti in una casa, l'Alto Solaio, e in quella casa ci fu che cosa? La discesa dello Spirito Santo. Parliamo di discesa perché fino a quel momento lo Spirito Santo non era ancora stato dato. Ma da quel momento lo Spirito Santo è stato dato, è venuto dal cielo. Gesù, infatti, poi leggeremo qualche scrittura al riguardo, disse io non vi lascerò orfani, io vi manderò lo Spirito Santo che sarà con voi per sempre. Amen. Quindi non sei orfano. Lo Spirito Santo è dentro di te. Tutti coloro che siete stati battezzati nello Spirito Santo, la Bibbia ci insegna che siamo diventati che cosa? La sua meravigliosa dimora. Quindi mentre loro in quei giorni, parliamo dei giorni della risurrezione, fino a Pentecoste, erano tutti preoccupati e si nascondevano, quando venne lo Spirito Santo non ebbero più alcun timore perché furono invasi dalla potenza di Dio, dillo dalla potenza di Dio. e la potenza di Dio venne su di loro e rese testimonianza di quello che è la realtà del Vangelo, di quella che è la realtà di Cristo, di quello che oggi noi ancora dobbiamo vivere. Amen. Infatti in atti nel capitolo 1, il verso 8, ci viene detto queste parole, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, su quando è venuto? Amen. Quindi è venuto ad abitare dentro di noi, voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Gallilea, e gloria a Dio, fino all'estremità della terra. Amen. Ora, questa è la promessa dello Spirito Santo e quindi parla della potenza di Dio nella nostra vita. Grazie Jenny, facciamo un applauso a Jenny. Quindi la promessa di Dio dentro di noi. Quindi Lui è su di noi ed è dentro di noi. Giovanni capitolo 11, capitolo, scusate, 14, il verso 15, le parole stesse di Gesù. Gesù disse queste parole, se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Quanti amate Gesù? Gesù ha detto che chi lo ama avrebbe fatto la sua volontà. Amen. Perché osservare i comandamenti significa fare la volontà di nostro Padre. Ed io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore. La los paracletos, dal greco, che rimanga con voi qualche volta. Quando c'ha voglia. Per sempre. Dillo per sempre. Dillo Lui è sempre con me. Dillo pure alla persona accanto a te. Lui è sempre con me. Quando tu dici di essere solo, a volte ci lamentiamo, io sono solo, nessuno mi pensa, lo Spirito Santo sta dicendo non si rende conto che io sono nella sua vita. Quindi quando dici queste cose lo ignori. e quando lo ignori, Lui si contrista. E la Bibbia dice non contristate lo Spirito Santo di Dio. Amen. Quindi Lui rimane qualche volta con noi? Lui rimane per sempre. In qualsiasi momento ti puoi venire a trovare, sappi che il tuo migliore amico è lo Spirito Santo. che è dentro di te. Perché quando si parla su di noi si parla di unzione sopra, ma quando si parla di dentro si parla di presenza, persona dello Spirito Santo dimorande nella nostra vita. Ci sei? Verso 17. Lo Spirito della verità. Quindi per sempre poi definisce lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere. Il mondo non ti capisce quando tu parli dello Spirito Santo che vive dentro di te. Perché non lo può ricevere, perché non lo vede, perché non lo conosce. Ma voi lo conoscete. E' importante conoscere lo Spirito Santo. E' importante conoscere Lui nella nostra vita. Ma voi lo conoscete. Sapete, non è semplicemente una conoscenza che si ha una sola volta nella nostra vita. Ma è una conoscenza progressiva. Noi ogni giorno abbiamo bisogno di conoscere sempre di più lo Spirito Santo che vive dentro di noi. Quindi non ignorarlo. Hai bisogno di conoscerlo. Se tu dovessi ignorare tua moglie quanti mariti stanno qui? Mariti, alzate le mani. E dovreste ignorare vostra moglie. Non la pensate. Non la considerate. Non la calcolate. Lei come ci rimane? Infatti di solito la mentela delle donne, di tutte le donne, tu non mi pensi mai. Tu non mi dici mai che mi ami. È vero? E quando tu la ignori naturalmente lei rimane male. Ti immagini che stai con lei e nemmeno gli rivolgi la parola. Come ci rimane? Anche tuo marito, moglie, se dovessi fare la stessa cosa anche lui ci rimarrebbe male. Vero fratelli? Ma lo stanno i fratelli? Immaginate lo Spirito Santo. Lui vive dentro di te e tante volte non ne sei consapevole. E tante volte lo ignori e ignori la sua presenza. Perciò abbiamo bisogno di conoscerlo. ma ve lo conoscete perché dimorerà con voi quindi lui è nel nostro mezzo e sarà in voi. Lui è nella nostra vita. Non vi lascerò orfani tornerò a voi. Parole meravigliose che il nostro Signore Gesù ci ha detto. Quindi lo Spirito Santo è la potenza di Dio per vivere una vita soprannaturale. Amen. Perciò in atti poi abbiamo letto voi riceverete potenza di una miss quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni. E la promessa che Dio ha fatto dello Spirito Santo in atti sempre nel capitolo 2 il verso 14 si adempie. Lui è venuto. Amen. Lui è qui oggi. Non deve venire di nuovo. Lui è qui. Dillo Lui è qui. La sua presenza è qui nel nostro mezzo. Ma Pietro si alzò in piedi con gli undici e ad alta voce parlò loro. Giudei e voi tutti abitanti di Gerusalemme vi sia noto questo e prestate attenzione alle mie parole. state accorte costoro non sono ubriachi perché loro dissero quelli che li vedevano i 120 che erano scesi dall'alto solaio sembravano come se fossero ubriachi perché li videro ubriachi perché stavano barcollando perché in quel momento si sentivano come se barcollassero la stessa tra virgolette naturalmente completamente differente esperienza che fa un ubriaco un ubriaco quanto è ubriaco mette fuori il peggio della sua vita quando un cristiano è ripieno di spirito santo mette fuori il meglio della sua vita perché Dio è il meglio nella propria vita e quindi gli stava rispondendo disse costoro non sono ubriachi come voi ritenete poiché è solo la terza ora del giorno ma questo è ciò che fu detto dal profeta Gioele gli avverranno gli ultimi giorni dice Dio che spanderò del mio spirito sopra ogni carne e i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno e i vostri giovani avranno visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni la chiesa di oggi care ha bisogno di ritornare alla genuinità del riversamento della potenza della pienezza dello spirito santo nel proprio mezzo amén ora ascoltami bene la potenza dello spirito santo viene data a un determinato tipo di persone abbiamo visto che Gesù ha detto il mondo non lo conosce ma voi lo conoscerete amén perché sarà con voi e sarà in voi lo spirito santo viene dato a coloro che vogliono vivere una vita di arresa arrenditi a Dio ogni giorno fai in modo che non sia fatta la tua volontà ma sia fatta la sua volontà quando tu ti arrendi quello che Gesù fece nel Getsemani non la mia volontà ma la tua volontà sia fatta in me e viene in colore che sono ubbidienti a Dio che ubbidiscono Dio che si accordano alla parola di Dio e vogliono camminare insieme con Lui chiudi i tuoi occhi e prega insieme con me ad alta voce padre eccomi io sono tuo tu mi hai comprato con il tuo prezioso sangue e sono consapevole che ti appartengo prenditi cura della mia vita fai in me ciò che tu vuoi in questa sera nel nome di Gesù amén e amén ascoltami non dimenticare mai quello che Dio ha fatto nella tua vita abbi sempre un cuore pieno di gratitudine da dove il Signore ti ha tirato fuori come ha aperto i tuoi occhi come ha intervenuto mostrando la sua misericordia al suo grande amore ricordati che non sarà mai perché te lo meriti ma sarà solo per mezzo della grazia di Dio che viene rivelata nella tua vita ed ogni giorno abbi la consapevolezza che hai bisogno di vivere ripieno di Spirito Santo e se per caso oggi non stai vivendo questa pienezza e approfondiremo questo tra poco stasera se desideri e la vuoi la puoi ricevere se lo desideri e la vuoi la puoi ricevere se la tua vita è vuota incomincia a pregare inginocchiati e prega cerca la presenza di Dio e inizia a pentirti delle condizioni che vivi nella tua vita peccaminose perché la persona più meravigliosa vuole regnare dentro di te e vuole guidare la tua vita perché questo è il momento che tu incominci a ubbidire il Signore quindi che ti sottometti a Lui affinché Lui ti possa riempire ancora un'altra volta dillo ancora un'altra volta ora come avviene o cosa avviene quando siamo ripieni di Spirito Santo sapete succedono delle cose gloriose io brevemente vi parlo di quello che è lo Spirito Santo è nella nostra vita il dono per eccellenza è lo Spirito Santo Lui è la persona quindi è il dono non è un dono che il Padre ci ha fatto Gesù ha detto che quando Lui sarebbe andato ce l'avrebbe mandato ci avrebbe donato lo Spirito Santo ma quando è venuto lo Spirito Santo e quando ne siamo stati battezzati nello Spirito Santo e siamo stati riempiti con lo Spirito Santo insieme alla persona dello Spirito Santo sono venuti i nove doni la Bibbia ci insegna una cosa molto importante che noi dobbiamo pregare per ricevere lo Spirito Santo ma dobbiamo non dobbiamo pregare per ricevere i doni perché quando Lui arriva i doni già sono dentro di te perché Lui è dentro di te ci sei? quindi in altre parole quando ricevi lo Spirito Santo Lui porta i doni dello Spirito nella tua vita ora questi doni ascoltami bene perché il primo pensiere che noi ci facciamo è che dobbiamo benedire gli altri però in primis Dio ha ragionato e ha detto che questi doni in primo luogo devono fare del beneficio a te devono benedire la tua vita e poi Dio ti userà per benedire la vita degli altri ma ascoltiamo quello che dice l'Apostolo Pavolo in primo corinzi capitolo 14 i doni vanno desiderati quando viene lo Spirito Santo abbiamo detto li porta anche i doni dello Spirito dentro di noi 14 verso 1 primo corinzi perseguite l'amore quindi con entusiasmo vi leggo dalla Bibbia amplificata rendilo il tuo obiettivo ma seriamente desidera e coltiva i doni quindi devi desiderarli e hai bisogno di coltivarli che cosa? i doni dello Spirito ora quali sono i doni dello Spirito? abbiamo detto che ne sono nove e ci sono i doni di rivelazione ci sono i doni vocali quindi quelli che parlano e ci sono i doni di potenza i doni di rivelazione sono il discernimento degli Spiriti la parola di sapienza e la parola di conoscenza la parola di conoscenza ti aiuta a conoscere il passato la parola di sapienza ti aiuta a conoscere quello che sta per fare Dio quindi il futuro il discernimento degli Spiriti ti aiuta a evitare e a proteggerti da situazioni che potrebbero venirti contro e quindi tu hai il discernimento per chi ti sta parlando per quello che ti sta dicendo ci sono tanti esempi nel libro degli atti che ci testimoniano di questa verità uno di questi esempi un giorno l'apostolo Pavolo come era sua consuetudine predicava l'Evangelo in determinate città in determinati luoghi e una donna che nella Bibbia la definisce una maga iniziò a seguire Paolo e incominciò a dire costui è la parola di Dio quello che lui vi annuncia è la verità primo giorno secondo giorno terzo giorno ad un certo punto Paolo intuisce nello spirito perché quello che stava dicendo poteva sembrare una cosa positiva poteva sembrare una cosa buona sicuramente se l'avessero fatto a te tu avresti detto tu sei da Dio gloria a Dio hai capito che io sono da Dio perché quello è quello che gli diceva ma lui ebbe il discernimento degli spiriti e capì che quello era un demone che in realtà l'obiettivo qual era? era quello di ingannare le persone perché il diavolo è furbo e cerca di fare le cose per ingannare con un secondo fine ma Paolo dice che quel giorno si girò la vide e cacciò via quello spirito dalla sua vita e da quel momento in poi non indovinava più perché era un demone che agiva dentro di Dio però voi immaginate senza il dono del discernimento degli spiriti lui avrebbe continuato ad andare avanti così ora quante volte a noi possono presentarsi delle occasioni e noi abbiamo bisogno di avere il discernimento per capire certe cose e quando tu sei ripieno di spirito santo questo dono agisce nella tua vita ti ripeto prima che tu parli agli altri perché sapete a volte noi siamo proiettati soltanto a dire vabbè taggia una profezia taggia fa una profezia ma non è questo lo scopo di Dio prima devono fare del bene a te attraverso il discernimento la parola di sapienza la parola di conoscenza tu riceverai protezione nella tua vita e riuscirei a discernere le situazioni che ti sono attorno e che ti succedono perciò questo meraviglioso doni Dio li ha messi dentro di noi per proteggere la nostra vita perché negli ultimi tempi Gesù ci ha insegnato che sorgeranno falsi Cristi che sorgeranno false dottrine ma quando tu vivi nella pienezza dello Spirito Santo tu ti muovi nella rivelazione nel discernimento tu capisci le cose non dipendi dalle persone ma imparerai a dipendere dallo Spirito Santo che è dentro di te ci sei quindi la prima cosa i primi tre doni sono i doni di rivelazione e come abbiamo detto riguardano che cosa parola di sapienza parola di conoscenza e discernimento degli spiriti poi ci sono i doni vocali quali sono i doni vocali profezia interpretazione e lingue queste anche per uso tuo personale porteranno un grande beneficio nella tua vita e poi ci sono i doni di potenza che sarebbero i tre doni fede potenti operazioni e guarigioni primo corinzi capitolo 12 il verso 7 naturalmente non li tratto uno per uno perché ci vorrebbe non un culto ma parecchie lezioni dice Paolo ora ciascuno è data la manifestazione per lo spirito e questo è per il beneficio comune per l'utilità comune a un infatti è dato per mezzo dello spirito parole di sapienza a un altro secondo il medesimo spirito parole di conoscenza a un altro fede dal medesimo spirito a un altro doni di guarigione per mezzo del medesimo spirito a un altro potere di compiere potenti operazioni a un altro profezia a un altro il discernimento degli spiriti a un altro la diversità di lingue a un altro l'imposizione delle mani or tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo spirito che distribuisce i suoi doni a ciascuno in particolare come lui vuole amén quindi in primis nel primo luogo i doni dello spirito quando tu ricevi la persona dello spirito santo quando la ricevi nel momento che sei battezzato nello spirito santo lui viene dentro di te e tu hai a disposizione i nove doni per uso personale quindi per avere protezione nella tua vita per parlare parole profetiche verso di te poi per usarle verso gli altri lì c'è bisogno dell'iniziativa dello spirito santo quindi che lui prende l'iniziativa nella tua vita per poter usare verso gli altri quindi quella riguarda una sua iniziativa ma per edificazione personale Dio ce li ha dati perché a Dio interessa che noi sappiamo discernere le cose e ci possiamo proteggere quanti volete muovervi nei doni dello spirito per la vostra vita la Bibbia cosa dice non devi pregare per averli devi desiderarli perché già sono dentro di te devi desiderarli e non solo desiderarli abbiamo letto devi coltivarli nella tua vita ora quello che a me interessa che voi comprendete è questo come possiamo fare per camminare nella pienezza dello spirito santo come facciamo a camminare ripieni ogni giorno dello spirito santo con il battesimo riceviamo la pienezza giusto? ma poi possono succedere situazioni e cose nella nostra vita dove durante il cammino possiamo perdere questa pienezza le circostanze che ci sono attorno le varie situazioni che viviamo ma il desiderio di Dio la volontà di Dio è che tu vivi nella pienezza sempre ma cosa succede dentro di noi? facciamo gli alti e bassi e ci sono molti cristiani che sono cristiani io io su e giù oggi nelle stelle domani nelle stalle lo vedi giorno prima tutto infuocato per Dio è pronto a mettere il mondo sotto sopra il giorno dopo praticamente è morto aiutatemi aiutatemi ma questa instabilità Dio non vuole che tu la vivi nella vita perché tu vivi in base alle circostanze ti soggetti alle circostanze mentre hai bisogno di essere soggettato a Dio e Dio ci vuole insegnare a portarci a questo livello quindi non essere un cristiano io io o come si dice a Napoli puparuola i peperoni quando li mangi cosa fanno? salgono e scendono salgono e scendono di alla persona accanto a te Dio non vuole che tu sei un cristiano puparuola ci siete? quindi con il battesimo nello spirito santo riceviamo potenza nella nostra vita abbiamo letto anche atti 1-8 ora ci sono tre cose fondamentali elementi fondamentali che ci permettono di camminare giorno dopo giorno nella pienezza dello spirito santo sapete? tre cose molto semplici ma a volte questo nella nostra testa è il problema le cose più sono semplici e più non le riceviamo e più le rifiutiamo ma sono semplicissime queste cose che tu hai bisogno di considerarle ogni giorno nella tua vita quali sono queste cose? prima cosa vivi una vita di pentimento non far passare il tempo quando hai sbagliato e diciamola tutta quando hai peccato quando c'è qualcosa contro un fratello la Bibbia dice che non deve tramontare il sole sul nostro cruccio ma dobbiamo subito risolvere andare alla riconciliazione ma anche quando viviamo una vita nel peccato in determinate aree della nostra vita non fare passare tempo quindi il primo principio e il primo fondamento vivi una vita di pentimento il secondo principio vivi una vita di ubbidienza quando Dio ti parla e ti dice che devi fare cose non aspettare per ubbidire perché a volte ne pensiamo ma io non ci riesco per me è troppo ma se Dio te l'ha detto voi pensate che Dio sia stupido? assolutamente voi pensate che Dio ci conosca o non ci conosca ci conosce o no? e Dio non ci darà mai una cosa che sia al di là delle nostre forze cioè qualcosa che noi non potremmo mai fare nella nostra vita e quando Dio ci chiede di fare degli atti di ubbidienza noi dobbiamo ubbidire e la terza cosa prega pentiti ubbidisci prega pentiti ubbidisci prega pentiti ubbidisci dillo prega questo è quello che succede quando siamo battezzati nello Spirito Santo cosa abbiamo fatto quando abbiamo ricevuto il battesimo dello Spirito Santo ci siamo pentiti ci siete abbiamo ubbidito perché se Dio ci ha fatto quella promessa ne abbiamo detto sì la promessa è per me nel nome di Gesù e io la ricevo nella mia vita e poi stavamo pregando la stessa cosa succede quando tu devi mantenerti ripieno di Spirito Santo quindi questo vale sia per chi deve ricevere il battesimo nello Spirito Santo pentiti ubbidisci e prega ma anche per chi deve mantenersi nella pienezza quanti di voi siete stati battezzati nello Spirito Santo alzate le vostre mani alzate pure l'altra e ditegli grazie Gesù quindi sto parlando a voi per camminare nella pienezza dello Spirito Santo Dio ti dice pentiti ogni giorno ubbidisci ogni giorno prega ogni giorno è difficile? è difficile? Dio ci chiama a farlo perché questa è la sua volontà per la nostra vita perché lui desidera che noi siamo camminiamo nella pienezza dello Spirito ogni giorno ora la Bibbia ci dice che quando viviamo così ci pentiamo ubbidiamo e preghiamo la potenza di Dio viene sulle nostre vite nelle nostre vite mentre adoriamo il nostro meraviglioso Gesù in Abba Cuc profeta dell'Antico Testamento ci viene detto che nella sua meravigliosa presenza si nasconde qualcosa cosa si nasconde nella presenza di Dio volete saperlo? Abba Cuc capitolo 3 verso 3 Dio veniva da Teman il santo dal monte Paran la sua gloria copriva i cieli e la terra era piena della sua lode qui parla della gloria di Dio e la gloria di Dio è sinonimo della presenza di Dio ci sei? quando vivi nella sua presenza succede quello che dice poi il verso 4 il suo splendore era come la luce raggi si sprigionavano dalla sua mano e là era nascosta la sua potenza dove è nascosta la potenza di Dio nella presenza di Dio quando tu stai alla sua presenza tu vivi nella potenza e la potenza si manifesta attraverso la tua vita perciò ho iniziato col dirvi la manifestazione dei doni spirituali arrivano con la pienezza dello spirito santo il battesimo ma poi si mantengono nella nostra vita quando noi viviamo costantemente alla sua presenza sapete nella sua presenza c'è qualcosa di straordinario è di meraviglioso che abbiamo bisogno di scoprire infatti Abba Cooch dice il suo splendore era come la luce raggi si sprigionavano dalla sua mano e là era nascosta la sua potenza e nel verso 3 parla della sua gloria che riempiva la terra nella presenza di Dio c'è la potenza di Dio dove la cerchi la potenza di Dio tante volte la cerchiamo altrove ma Dio ci invita a cercarla nella sua presenza Dio ci invita a spendere tempo nella sua presenza un tempo di qualità nella sua presenza quando lo adori quando lo onori cosa succede la sua presenza diventa reale per te tu incominci ad essere consapevole e cosciente della sua presenza quando succede questo ti arrendi quando la sua presenza è reale tu non puoi fare almeno di arrenderti e dire Signore quello che è iniziato in me è un'opera buona è un'opera perfetta portala avanti quando ti arrendi a questo punto viene un nuovo riempimento vivi nella pienezza vieni rafforzato nella tua vita e incomincia a fare che cosa a traboccare la tua vita incomincia ad essere una vita traboccante perché vivi dove alla presenza Efesi l'apostolo Paola che abbiamo letto prima che dobbiamo vivere alla sua presenza siate ripieni dello Spirito Santo perché questa è la volontà di Dio è un presente continuato cioè significa mantenetevi continuamente ripieni dello Spirito Santo come fai a mantenerti continuamente ripieni dello Spirito Santo pentendoti ubbidendo e poi stando alla sua presenza pregando ti penti ubbidisci e poi lo adori stai alla sua meravigliosa presenza questo ti fa traboccare Salmo 45 verso 1 mi sgorgono dal cuore parole soavi questo è quello che succede quando vivi nella pienezza dello Spirito Santo io canto il mio peema al re lo adori ami adorarlo ami stare alla sua presenza la mia lingua sarà come la penna di un veloce scrittore in altri termini tutto dentro di te traboccherà di gioia quando hai iniziato immagina la tua condizione di adesso forse ci sono aree morte nella tua vita ci sono aree aride dentro di te quindi inizia inizi con questa realtà ma quando poi esci dalla presenza cosa succede se gioioso se traboccante vivi nella vittoria l'ultima pioggia arriva su di te e vivi questa realtà viene liberato dall'oppressione satanica e diabolica e non puoi fare almeno di gioire delle sue vittorie incominci a rallegrarti perché vedrai Dio attraverso di te compiere vittorie per questo motivo la Bibbia ci dice che noi siamo più che vincitori in Cristo e quando noi diventiamo più che vincitori perché lo diventiamo non sarà una cosa automatica ma sarà perché tu ogni giorno vivi una vita di pentimento ma sarà perché tu ogni giorno vivi una vita di ubbidienza ma sarà perché tu ogni giorno preghi stai alla sua presenza questo ti farà vivere nella vittoria in altre parole la gioia del Signore diventerà la tua forza la gioia dell'Eterno è la mia forza cosa disse Davide quando perse la presenza di Dio rendimi la gioia della tua salvezza quando le persone perdono la presenza di Dio perdono la gioia della salvezza diventano tristi e vanno a cercare altri che gli dia chi gli elemosi da un pochettino di gioia ma Davide stava dicendo Signore rendimi la gioia ho perso la gioia ma io ho bisogno della gioia della tua presenza nella mia vita perché quando perdi la gioia della salvezza questo sarà ed è un segno che tu hai perso la presenza di Dio la Chiesa ha bisogno questo di oggi ha bisogno di ritornare alla presenza di Dio Davide disse ristora dentro di me la gioia della tua presenza sai quando lo disse questo quando disse crea in me un cuore puro o Dio e rinnova il mio spirito dentro di me non togliermi il tuo santo spirito e quello gli avrebbe permesso che cosa di ritornare dove è di sperimentare che cosa la gioia della presenza di Dio cosa riporta la presenza di Dio nella tua vita porta la gioia e porta la potenza porta la potenza di Dio nel Salmo 51 che stavamo citando prima cosa dice Davide ho peccato contro di te qui vediamo che lui si pente contro te solo e ho fatto ciò che è male ai tuoi occhi il verso 10 oh Dio crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito saldo qui ci parla di obbedienza stava ritornando all'obbedienza poi lodandolo gli dice il verso 11 non rigertarmi dalla tua presenza e non togliermi il tuo santo spirito rendimi la gioia della tua salvezza e sostienimi con uno spirito volenteroso Davide stava facendo esattamente quello che io vi sto dicendo perché la parola di Dio è la parola di Dio vivi nel pentimento ubbidisci e prega e cerca la presenza di Dio nella tua vita ci sei? cosa disse Gesù un giorno? Giovanni nel capitolo 7 il verso 37 nell'ultimo giorno il gran giorno della festa Gesù si alzò in piedi ed esclamò dicendo se qualcuno ha sete venga a me e beva ascoltami Gesù stava dicendo io sono la sorgente non c'è un'altra non c'è un'altra sorgente al di fuori di me vuoi essere traboccante vuoi vivere nella pienezza vuoi restare rafforzato da chi devi andare? Gesù ha detto venite a me cosa facciamo oggi? oggi andiamo dai leader quando abbiamo problemi e stiamo male ma Gesù non ha mai detto andate dai leader Gesù ha detto venite a me ci sei? ha detto se qualcuno ha sete c'è qualcuno che ha sete qui? a chi ti puoi rivolgere? venite a me se qualcuno ha sete venga a me e beva è buono gloria a Dio che i pastori impongono le mani sulla tua vita ma sappi una cosa la sorgente non sono i pastori la sorgente non sono gli apostoli la sorgente non sono i ministeri la sorgente è Gesù lui è l'unica sorgente della nostra vita i ministri siamo strumenti di Dio nelle sue mani per poter benedire il popolo di Dio ma siamo soltanto degli strumenti che Dio usa ma la sorgente è Gesù io non starò sempre presente nella tua vita ma Gesù sarà sempre presente sei felice? o no? il mentore affidatario non sarà sempre presente nella tua vita perché noi esseri umani non siamo onnipresenti Gesù è onnipresente e lui sarà sempre presente quando tu hai sete Gesù ha detto vieni a me e bevi continua perché dopo il verso 38 ci parla della promessa chi crede in me come ha detto la scrittura da dentro di lui sgorgeranno fiumi di acqua viva ora gli disse questo dello spirito che avrebbero ricevuto coloro che avrebbero creduto in lui lo spirito santo infatti non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora stato glorificato parla della potenza di Dio non parla di uno zampillo di acqua non parla di un bicchiere d'acqua ma parla di un fiume quando tu vai a lui e impari a dipendere dalla sua presenza vivi una vita di pentimento di obbedienza e di preghiera adorazione vai nella sua presenza Gesù ha detto che da dentro di te sgorgeranno fiumi di acqua viva e di cosa parlava quando parlava di fiumi abbiamo letto Gesù l'ha detto ora egli disse questo dello spirito che avrebbero ricevuto coloro che avrebbero creduto di cosa sta parlando qui della pienezza Dio vuole che tu vivi nella pienezza dello spirito santo amen Dio vuole che tu vivi ripieno dello spirito santo ascoltami c'è una scrittura nell'antico testamento o meglio dire nascosta nell'antico testamento che ci parla chiaramente di come vivere nella pienezza dello spirito santo che abbiamo bisogno di sperimentare si trova nel libro di Giobbe il libro più antico della Bibbia forse qualcuno avrebbe pensato che una scrittura che parla della pienezza dello spirito santo sarebbe stata scritta nel nuovo testamento perché è scritta nel libro di Giobbe perché Dio vuole farti sapere una cosa molto importante che l'antico e il nuovo testamento sono la sua parola ci sei quindi lo spirito santo ci ha lasciato queste istruzioni per camminare nella pienezza per essere battezzati e ce le ha lasciate dicevamo nell'antico testamento Giobbe capitolo 29 troviamo cinque semplici passi ma se li pratichiamo faranno in modo che la potenza di Dio si possa scaturire dalla nostra vita perché vi sto parlando di questo stasera perché stiamo parlando dello spirito santo e lo spirito santo lo caratterizza la potenza di Dio voi riceverete potenza tu devi camminare nella potenza per vincere tutte le battaglie che incontrerai nel tuo cammino per superare tutte le difficoltà che incontrerai nel tuo cammino non troverai sempre il pastore non troverai sempre il tuo mentore ma troverai sempre Gesù ma troverai sempre la sua presenza e lo so che queste tre semplici cose tre semplici cose ma in alcune persone li mettono in crisi perché non sempre dipendi perché preferisci rimanere litigato con il tuo fratello perché preferisci rimanere nel tuo peccato e poi vuoi risolvere i tuoi problemi scusatemi per la franchezza cari ma se tu non risolvi i tuoi problemi nel tuo cuore con papà tu non risolverai mai le condizioni della tua vita prega o meglio dire pentiti ubbidisci e prega ripetilo pentiti ubbidisci e prega giove 29 verso 21 sempre vi leggo dall'amplificata mi hanno ascoltato hanno atteso e sono rimasti in silenzio per mezzo della mia parola verso 22 dopo che ho parlato loro essi non hanno più parlato e il mio discorso è entrato dentro di loro come una doccia rinfrescante verso 23 mi hanno aspettato per mezzo della mia parola come per chi aspetta la pioggia e hanno spalancato la loro bocca come per l'ultima pioggia è straordinario questi versi sono gloriosi questi versi cari prima po' cosa che ci dicono è questo hanno ascoltato la mia parola mi hanno ascoltato quando tu ascolti la parola di Dio quella deve essere la cosa più importante della tua vita stare alla sua presenza per ascoltare la sua parola per ascoltare le parole di Gesù nella tua vita Gesù ti sta dicendo chi ha sete venga a me e beva ascoltare la sua parola è la caratteristica di chi ha sete chi ha sete nel suo spirito chi desidera di più della presenza di Dio seconda cosa mi hanno aspettato questo significa hanno pregato mi hanno invocato hanno atteso e sono rimasti in silenzio per la mia parola la terza cosa non hanno replicato questa è adorazione silenziosa non replichi contempli Dio ti vuole portare a questo livello spirituale questo è quello che è venuto a fare lo spirito santo dentro di te non hanno replicato dopo che ho parlato loro essi non hanno più parlato e il mio discorso è entrato dentro di loro perché quando Dio ti parla tu non puoi replicare puoi soltanto ricevere si chiama adorazione silenziosa quando si sta in silenzio si giunge al punto dove desideri di più della parola di Dio nella tua vita e Dio vuole avere momenti dove tu stai in silenzio nella sua presenza dove stai in silenzio e lo ascolti questi tre passi iniziali che vi ho citato sono potenti come se lui sta dicendo vieni a me prima cosa poi aspettami seconda cosa e poi ad ora in silenzio non andare a cercare laddove non c'è risposta ai tuoi bisogni vai a lui è Gesù che ti invita se tu hai sete vai a lui dopo che vai a lui aspettalo sappia attendere nella sua presenza e poi scatta l'adorazione silenziosa la parola viene rilasciata nel tuo cuore lui incomincia a parlare alla tua vita e tu incominci non puoi replicare puoi solo stare in silenzio e adorarlo per la sua magnificenza il quarto passo le sue parole cadranno dentro di te come chi aspetta la pioggia quindi la pioggia la pienezza dello spirito santo verrà nella tua vita tutto ciò che vorrai sarà solo la sua meravigliosa parola ascoltami fai che della sua parola la realtà più importante della tua vita e il quinto passo spalanca la bocca per fartela riempire infatti e hanno spalancato la loro bocca come per l'ultima pioggia cosa sta parlando Giove sta parlando della pienezza dello spirito santo sta parlando il modo di come noi possiamo giungere alla pienezza dello spirito santo vai a Dio per ricevere la sua parola prega adora lasciati riempire dalla sua parola e poi l'ultima pioggia la pienezza di Dio riempirà la tua vita cari queste non sono istruzioni di un uomo queste sono le istruzioni di Dio nella nostra vita per camminare una vita di pienezza perché vi sto dicendo questo stasera perché per te c'è un nuovo riempimento c'è una nuova pienezza nella tua vita di un uomo di un uomo di un uomo Grazie a tutti.